Sbaglia però segue a rimbalzo e così porta a casa un altro possesso per i biancorossi Sorrentino, tanti minuti in campo, giustamente per lui, ancora Sorrentino Prova dalla media, ancora canestro di Matteo Sorrentino Che sembra incontenibile, visto che aveva già giocato nel 2013-2014 Negli ultimi due anni era stato ad opera E perciò per lui è quasi un derby giocare con Milano 3, giocando il recupero Corre il contropiede, schiaccia Del numero 23, Fusella, che però sbaglia, contropiede, gestito benissimo da Peppe Giocondo Che la lancia A mo' di giocatore direi, c'è la famola, consegna a Tandoi Coach Pugliese dice di azionare la 4% di Milano 3 Colombo ribalta il lato per Mike Iacono Bomba! Peppe Giocondo ampiamente in partita Un po' caldo Giocondo Che ha proprio la sfera in questo istante Gran passaggio per il Benjo Che schiaccia! Subisce il fallo! Gita in lunetta!